Capitolo 12 E ultima, anche per importanza, la ragazza del distretto 12 va a Coriolanus Snow. Le cose sarebbero potute finire in modo molto diverso se non ti fossi aggiudicato la tua ragazzina arcobaleno. La verità è che eravamo tutti così impegnati a ucciderci l'un l'altro che abbiamo dimenticato come ci si diverte. Lei lo sa, però, la tua ragazza. La sua ragazza. Sua. Lì, a Capitol City, era un dato di fatto che Lucy Gray appartenesse a lui, come se non fosse esistita prima che chiamassero il suo nome alla mietitura. Persino quel moralista di Seianus la considerava merce di scambio. Se non era proprietà quella, cos'era? Con la sua canzone, Lucy Gray aveva negato tutto questo dipingendo una vita che non aveva niente a che fare con lui, e molto a che fare con qualcun altro. Qualcuno che lei chiamava amore, niente meno. E per quanto Coriolanus non potesse accampare alcun diritto sul suo cuore, la conosceva appena. Non sopportava nemmeno l'idea che quel diritto lo avesse qualcun altro. Anche se la canzone era stato un evidente successo, si sentiva in qualche modo tradito. Persino umiliato. Lucy Gray si alzò e fece un inchino. Poi tese la mano verso di lui. Dopo un attimo di esitazione, la raggiunse sul proscenio, mentre l'applauso cresceva fino a diventare una standing ovation. Pluribus guidava il coro di grida che chiedevano un bis, ma il tempo a loro disposizione era scaduto, come ricordò Lucky Flickerman. Così, dopo un ultimo inchino, abbandonarono il palcoscenico mano nella mano. Quando arrivarono dietro le quinte, lei fece per lasciarlo andare, ma lui strinse più forte le sue dita. «Bene, hai fatto colpo! Congratulazioni! Nuova canzone?» «Ci lavoravo su da parecchio, ma ho trovato l'ultima strofa solo qualche ora fa», rispose. «Perché? Non ti è piaciuta?» «Mi ha sorpreso, ne avevi tante altre». «È vero». Liberò la mano dalla sua e passò le dita sulle corde della chitarra, traendone un ultimo frammento di melodia prima di riporre con delicatezza lo strumento nella custodia. «Il fatto è questo, Coriolanus. Io combatterò con tutte le mie forze per vincere questi giochi, ma là dentro mi troverò con gente come Mortifer, Tanner e altri che hanno già ucciso in vita loro. Non ci sono certezze». «E la canzone?» la punzecchiò. «La canzone?» ripete lei, prendendosi un istante per riflettere sulla risposta. «Ho lasciato delle questioni in sospeso nel distretto 12, ed essendo un tributo, beh, c'è la cattiva sorte e ci sono i cattivi affari. Io ho fatto un cattivo affare. E c'era lo zampino di una persona che mi doveva molto. La canzone è stata una specie di vendetta. La maggior parte del pubblico non ne sa niente, ma i covi riceveranno il messaggio chiaro e forte. E loro sono tutto quello che mi sta a cuore. «Dopo un solo ascolto?» chiese Coriolanus. «Che rapidità!» «A mia cugina Moe d'Aivory un solo ascolto basta e avanza. Quella bambina non dimentica mai niente che sia in musica», ribatté Lucy Gray. «Sembra proprio che io stia per essere arrestata un'altra volta». I due pacificatori che apparvero al suo fianco la trattarono con una certa cordialità, chiedendole se fosse pronta ad andare e cercando di trattenere i sorrisi. Proprio come quelli del distretto dodici. Coriolanus non riuscì a non domandarsi quanto potesse essere amichevole lei. Lanciò ai due un'occhiata di disapprovazione, che non ebbe il minimo effetto, e li sentì complimentarsi per la sua esibizione mentre la portavano via. Scacciò il malumore e accettò le congratulazioni che gli piovevano addosso da ogni dove. Contribuivano a ricordargli che era lui la vera star della serata. Anche se Lucy Gray aveva un po' di confusione in testa sull'argomento, agli occhi di Capitol City lei gli apparteneva. Che senso avrebbe avuto attribuire il successo a un tributo dei distretti? Concetto valido finché non si imbatté in Pluribus, che con grande entusiasmo disse Che talento naturale! Se riesce a sopravvivere, sono decisissimo a farne l'attrazione principale del mio locale. Mi sembra un po' difficile. Non la rimandrebbero a casa sua? Obiettò Coriolanus. Ho un paio di favori ancora da riscuotere, replicò. Oh, Coriolanus, non è stata magnifica! Sono felice che l'abbia avuta tu, ragazzo mio. Era ora che agli snotto cassa un po' di fortuna. Stupido vecchio, con la sua parrucca incipriata e la sua gatta decrepita. Cosa ne sapeva lui? Era sul punto di mettere le cose in chiaro quando comparve Satiria, che gli sussurrò all'orecchio. Credo che abbiamo quel premio in tasca. e lui lasciò perdere. Apparve Seianus, in un altro completo nuovo di zecca, con al braccio una donnina raggrinzita che indossava un costoso vestito a fiori. Cosa che aveva ben poca importanza. Puoi anche infilare una rapa dentro un abito da sera, ma quella ti implorerà comunque di farne purea. Coriolanus non ebbe il minimo dubbio che si trattasse di ma. Mentre Seianus faceva le presentazioni, le porse la mano e le rivolse un caldo sorriso. Signora Plint, che onore! La prego, perdoni la mia dimenticanza. Sono giorni che vorrei scriverle un biglietto, ma ogni volta che mi siedo per farlo, la testa mi pulsa così tanto per via della commozione cerebrale che non riesco a concentrarmi. Grazie per lo squisito pasticcio di carne. Il viso della signora Plint si increspò tutto per la soddisfazione e lei fece una risata imbarazzata. Siamo noi a ringraziare te, Coriolanus. Siamo felicissimi che Seianus abbia un così buon amico. Se mai dovesse aver bisogno di qualcosa, spero che tu sappia che puoi contare su di noi. Beh, funziona in entrambi i sensi, signora. Sono al vostro servizio, disse, andandoci talmente pesante che chiunque altro si sarebbe insospettito di certo. Non ma, però. I suoi occhi si riempirono di lacrime e riuscì a emettere solo un gorgoglio, ammutolita da tanta magnanimità. Frugò nella borsetta, una roba raccapricciante delle dimensioni di una piccola valigia. Ne estrasse un fazzoletto orlato di pizzo e cominciò a soffiarsi il naso. Per fortuna Tigris, che era davvero dolce con tutti, giunse dietro le quinte a cercarlo e gli risparmiò le chiacchiere con i plint. L'eccitazione per la serata si placò a poco a poco e lungo il tragitto verso casa, i due cugini la commentarono, dal sobrio uso del blush da parte di Lucy Gray al taglio infelice dell'abito di Ma. «Veramente, Corio, non era immaginabile che potesse andarti meglio di così», disse Tigris. «Sono soddisfatto, è chiaro. Penso che riusciremo a procurarle degli sponsor. Spero solo che alcuni non si facciano dissuadere dalla canzone. A me ha commosso molto. Penso che abbia commosso quasi tutti. A te non è piaciuta?» chiese. «Certo che mi è piaciuta, ma io sono di mente più aperta della maggior parte della gente», rispose. «Voglio dire, a che genere di cose pensi alludesse, Lucy Gray?» «A me è sembrato che dicesse di aver avuto un brutto periodo. Qualcuno che amava le ha spezzato il cuore. Questa è solo metà della storia», proseguì lui. Non poteva lasciare che Tigris lo credesse capace di invidiare un qualche buono a nulla dei distretti. C'era anche la parte in cui diceva di aver vissuto del suo fascino. «Beh, potrebbe significare qualunque cosa. È un artista, dopo tutto», replicò. Coriolanus ci pensò su. «Immagino di sì». «Hai detto che ha perduto i genitori. È probabile che se la cavi da sola da anni. Penso che nessuno che sia sopravvissuto alla guerra e agli anni successivi possa fargliene una colpa». Tigris abbassò lo sguardo. «Tutti noi abbiamo fatto cose di cui non andiamo fieri». «Tu no?» «Sul serio?» Tigris parlava con un'amarezza insolita. «È stato così per tutti. Forse tu eri troppo piccolo e non te lo ricordi. Forse non ti rendevi conto di quanto fosse dura in realtà». «Come puoi dire una cosa del genere se non ricordo altro?» ribattì lui. «Allora si gentile, Corio», scattò la ragazza. «E prova a non guardare dall'alto in basso la gente che è stata costretta a scegliere tra la morte e la vergogna». Il rimprovero di Tigris lo turbò, ma sempre meno della sua allusione a un comportamento che poteva essere considerato una vergogna. «Cosa aveva fatto sua cugina?» «Perché qualunque cosa fosse, l'aveva fatta per proteggere lui». Ripensò alla mattina della mietitura, a quando si era chiesto distrattamente cosa potesse avere da scambiare al mercato nero, ma senza poi prendere sul serio la cosa. «O no?» «Avrebbe preferito semplicemente non sapere quali sacrifici era disposta a fare per lui?» Il discorso di Tigris era tanto vago ed esistevano così tanti comportamenti indegni di uno Snow che anche lui avrebbe potuto dirsi «Beh, potrebbe significare qualunque cosa», come aveva fatto lei con la canzone. «Voleva conoscere i particolari?» «No». «La verità era che non voleva». Mentre apriva la porta a vetri del palazzo, Tigris lanciò un grido incredulo. «Oh no! Non può essere! L'ascensore funziona!» Coriolanus era dubbioso, visto che quell'affare non funzionava sin dai primi tempi della guerra. Ma la porta rimaneva aperta e le luci si riflettevano sulle pareti a specchio della cabina. Contento per il diversivo, le fece un profondo inchino invitandola a entrare. «Dopo di te!» Tigris ridacchiò e sfilò al terra nella cabina come la gran signora che era per nascita. «Troppo gentile!» Coriolanus la seguì all'interno e per un attimo tutti e due fissarono i pulsanti che indicavano i piani. «L'ultima volta che l'ho visto funzionare eravamo appena rientrati dal funerale di mio padre. Siamo tornati a casa e da allora abbiamo sempre fatto le scale. La signora nonna ne sarà elettrizzata», disse Tigris. «Le sue ginocchia non sopportano più tutti quei gradini. Io sono elettrizzato. Magari uscirà di casa qualche volta», replicò Coriolanus. Tigris gli diede un colpetto sul braccio ma rideva. «Sul serio? Sarebbe bello avere la casa tutta per noi per cinque minuti. Magari schivare l'inno una mattina o non indossare la cravatta per cena. D'altra parte, esiste sempre il pericolo che si metta a parlare con la gente. Quando Coriolanus sarà presidente, pioverà champagne ogni martedì. «Forse la gente darà la colpa all'età», disse Tigris. «Speriamo. Vuoi avere tu l'onore?» Tigris allungò la mano e schiacciò a lungo e con forza il pulsante dell'attico. Dopo un istante le porte si richiusero, scivolando senza nemmeno un cigolio, e l'ascensore cominciò a salire. «Mi sorprende che l'amministrazione abbia deciso di aggiustarlo adesso. Deve essere costato parecchio». Coriolanus si accigliò. «Non pensi che stiano dando una sistemata al palazzo nella speranza di vendere gli appartamenti? Sai, con la nuova tassa...» L'allegria abbandonò Tigris. «Possibilissimo. So che i Doolittle prenderebbero in considerazione l'idea di vendere al giusto prezzo. Dicono che l'appartamento è troppo grande per loro, ma mi sa che non è per quello. È così che diremo noi che la casa che è da sempre della nostra famiglia è diventata troppo grande?» domandò Coriolanus, mentre le porte si aprivano sul loro pianerottolo. «Andiamo. Ho ancora dei compiti da fare». La signora nonna, che lo aveva aspettato alzata per tessere le sue lodi, disse che continuavano a trasmettere e ritrasmettere i momenti più importanti delle interviste. «È una cosina triste e volgare, è la tua ragazza, ma stranamente attraente al suo modo. Forse è la voce. Non so come, ma ti entra dentro». Coriolanus pensò che, se Luce Grey aveva conquistato la signora nonna, avrebbe fatto lo stesso con il resto della nazione. E se nessun altro sembrava infastidito dal discutibile passato della ragazza, perché doveva preoccuparsene lui? Beve un bicchiere di latticello, si cambiò indossando la vestaglia di seta di suo padre e si mise comodo per scrivere tutto quello che gli piaceva della guerra. Come si dice, la guerra è una calamità, ma una calamità non priva di fascino. Gli pareva un incipit brillante, che però non portava da nessuna parte, tanto che mezz'ora dopo non aveva fatto alcun progresso. Quel compito, come aveva suggerito Festus, era destinato a essere molto breve, ma sapeva che la dottoressa non ne sarebbe stata soddisfatta e un tentativo svogliato gli avrebbe attirato soltanto attenzione indesiderata. Quando Tigris entrò per dargli la buonanotte, discusse l'argomento con lei. Ricordi che ci piacesse qualcosa? La ragazza si sedette in fondo al suo letto e ci pensò su. A me piacevano alcune uniformi, non quelle di adesso. Hai presente le giacche rosse con i profili dorati? Quelle delle parate? Provò una leggera scarica di adrenalina, ricordando come si sporgeva dalla finestra quando i soldati e le bande militari vi passavano davanti. Mi piacevano le parate. Le adoravi. Eri così emozionato che non riuscivamo a farti fare colazione, disse Tigris. Davamo sempre una festa nei giorni di parata. Posti in prima fila? Coriolanus si annotò le parole uniformi e parate su un pezzo di carta, poi aggiunse fuochi d'artificio. Quando ero piccolo, doveva piacermi ogni genere di spettacolo, immagino. Ti ricordi il tacchino? Chiese di Colpo Tigris. Era successo l'ultimo anno di guerra, quando l'assedio aveva ridotto Capitol City al cannibalismo e alla disperazione. Cominciavano a scarseggiare persino i fagioli ed erano passati mesi dall'ultima volta in cui qualcosa di simile alla carne aveva trovato la strada per la loro tavola. In un tentativo di sollevare il morale alla popolazione, Capitol City aveva dichiarato il 15 dicembre giornata nazionale degli eroi. Era stato preparato uno speciale televisivo e reso onore a una decina di cittadini che avevano perso la vita per difendere la città. Tra loro c'era anche il padre di Coriolanus, il generale Crassus Snow. L'elettricità era tornata in tempo per la trasmissione, ma prima era mancata e con lei il riscaldamento per un giorno intero. Si erano raggomitolati tutti e tre sull'enorme letto della signora nonna e lì erano rimasti a guardare la commemorazione dei loro eroi. Il ricordo che Coriolanus aveva del padre era sbiadito già allora e per quanto ne conoscesse i tratti del viso dalle fotografie, fu sorpreso quando udì la sua voce profonda e le parole dure contro i distretti. Dopo l'inno, furono costretti ad alzarsi per andare ad aprire la porta, dove trovarono tre giovani soldati in uniforme di gala che portavano una targa commemorativa e un cesto con un tacchino congelato di quasi dieci chili offerto dallo Stato. in un apparente tentativo di eguagliare l'antico lusso di Capitol City il cesto conteneva anche un polveroso barattolo di gelatina alla menta, una scatoletta di salmone, tre bastoncini spezzati di ananas scandito, una spugna di luffa e una candela profumata. I soldati posarono il cesto sul tavolo dell'ingresso, lessero un discorso di ringraziamento e augurarono loro la buonanotte. Tigris scoppiò in lacrime e la signora nonna dovette sedersi ma la prima cosa che fece Coriolanus fu correre ad accertarsi che la porta fosse ben chiusa per proteggere i loro nuovi tesori. Avevano mangiato il salmone con il pane tostato e deciso che il giorno dopo Tigris sarebbe rimasta a casa da scuola per capire come cucinare il volatile. Coriolanus consegnò a Pluribus un invito a cena vergato sulla carta da lettere intestata degli Snow e Pluribus arrivò portando posca e una lattina ammaccata di albicocche. Con l'aiuto di un vecchio libro di ricette Tigris si era superata e avevano banchettato con il tacchino ripieno di pane e cavolo glassato con la gelatina. Non c'era mai stato niente né prima né dopo che avesse un sapore altrettanto buono. È ancora uno dei giorni più belli della mia vita. Coriolanus non sapeva bene come esprimerlo ma alla fine aggiunse sollievo dalle privazioni al suo elenco. Sei stata grande per come hai cucinato quel tacchino. All'epoca mi sembravi tanto grande ma in realtà eri solo una bambina. Tigris sorrise e tu con il tuo orto di guerra sul tetto? Se ti piaceva il prezzemolo ero il tuo uomo rise ma in quel periodo era molto fiero del suo prezzemolo insaporiva la minestra e a volte lo si poteva scambiare con altre cose intraprendenza mise sull'elenco. Così scrisse il suo tema raccontando quei piccoli piaceri infantili ma alla fine non ne fu soddisfatto ripensò alle ultime due settimane con gli ordigni esplosi nell'arena i suoi compagni morti la fuga di Marcus e a come tutto questo avesse riacceso il terrore che aveva provato quando Capitol City era sotto assedio. Quello che importava allora e che importava ancora adesso era vivere senza quella paura addosso. Perciò aggiunse un paragrafo sul suo profondo sollievo per la vittoria della guerra e sulla cupa soddisfazione nel vedere i nemici di Capitol City che lo avevano trattato in modo tanto crudele la cui esistenza era costata tanto cara alla sua famiglia ridotti in ginocchio in catene impotenti incapaci di fargli di nuovo del male aveva adorato l'insolito senso di sicurezza derivato dalla loro sconfitta quella sicurezza che solo il potere può dare la possibilità di controllare le cose sì ecco cosa gli era piaciuto più di tutto il mattino seguente mentre i mentori rimasti giungevano alla spicciolata per la riunione domenicale Coriolanus tentò di immaginarsi chi avrebbero potuto essere se non ci fosse stata la guerra poco più che poppanti quando era iniziata avevano forse otto anni quando era finita anche se le difficoltà si erano attenuate lui e i suoi compagni erano ancora lontanissimi dalla vita opulenta nella quale erano nati e la ricostruzione del loro mondo fino a quel momento era stata lenta e avvilente se avesse potuto cancellare i razionamenti e i bombardamenti la fame e la paura e sostituire tutto questo con il roseo futuro che era stato promesso alla nascita a ognuno di loro sarebbe stato in grado di riconoscere i suoi amici Coriolanus provò una fitta di rimorso quando ripensò a Clemenzia non era ancora andato a trovarla tra la propria convalescenza i compiti e la preparazione ai giochi di Lucy Gray non era solo un problema di tempo però non aveva alcuna intenzione di tornare all'ospedale per vedere in che condizioni era e se il dottore avesse mentito e le squame si fossero estese a tutto il suo corpo e se si fosse trasformata completamente in un serpente era una stupidaggine ma il laboratorio della dottoressa Goll gli era sembrato un luogo così minaccioso che la sua mente si orientava verso ipotesi estreme un pensiero paranoico lo assillava e se i collaboratori della dottoressa Goll fossero stati lì ad aspettarlo per poter catturare anche lui non aveva alcun senso se avessero voluto trattenerlo il suo ricovero in ospedale sarebbe stato il momento giusto tutta quella storia era ridicola concluse sarebbe andato da clemenzi alla prima occasione la dottoressa Goll che chiaramente era un tipo mattiniero il decano high bottom che altrettanto chiaramente non lo era stavano riguardando le esibizioni della sera prima Coriolanus e Lucy Gray avevano sbaragliato il campo anche se venivano comunque attribuiti punti a quelli che almeno erano riusciti a portare i loro tributi alle interviste su Capitol TV Lucky Flickerman in diretta dall'ufficio postale principale forniva aggiornamenti sulle scommesse e anche se la gente dava gessa a Petunner come favoriti per la vittoria Lucy Gray aveva raccolto il triplo dei doni rispetto al suo avversario più prossimo guardate tutte quelle persone disse la dottoressa Goll mandano pane a una ragazzina con il cuore spezzato anche se non sono convinte che possa vincere cosa ci insegna a questo ai combattimenti dei cani ho visto giocatori sostenere dei bastardi che stavano sì e no in piedi ne raccontò Festus alla gente piacciono le scommesse azzardate alla gente piace una bella canzone d'amore piuttosto lo contradisse Persefone mettendo in mostra le fossette la gente è pazza soghignò Livia quella non ha alcuna possibilità però i romantici sono tanti Cucciolo la guardò battendo le palpebre e le lanciò baci rumorosi sì le fantasie romantiche le fantasie idealistiche possono essere molto seducenti il che sembra un perfetto spunto per passare a parlare dei vostri temi la dottoressa Gol si sedette su uno sgabello vediamo un po' cosa avete scritto invece di raccogliere i compiti la donna ne fece leggere qualche pezzo a voce alta i compagni di Coriolanus avevano sfiorato molti punti che a lui non erano venuti in mente alcuni erano stati attratti dal coraggio dei soldati dalla possibilità di essere eroici anche loro un giorno altri avevano parlato del legame che si creava tra soldati che combattevano insieme o della nobiltà nel difendere capital city ci sembrava di essere tutti parte di qualcosa di più grande disse Domizia a noi con aria grave e la sua coda di cavallo ondeggiò qualcosa di importante tutti abbiamo fatto dei sacrifici ma era per salvare il nostro paese Coriolanus si sentiva lontano dalle loro fantasie romantiche perché non condivideva quella visione idealizzata della guerra spesso il coraggio in battaglia era necessario per colpa della pessima pianificazione di qualcun altro non sapeva se sarebbe stato disposto a beccarsi una pallottola per Festus né era interessato a scoprirlo quanto alle nobili idee di capital city ci credevano davvero quello che desiderava lui aveva poco a che fare con la nobiltà e tutto a che fare con il potere non che non avesse un solido codice morale ce l'aveva e come ma quasi ogni aspetto della guerra dal momento in cui veniva dichiarata alle parate della vittoria gli sembrava uno spreco di risorse tenne d'occhio l'orologio mentre fingeva di essere coinvolto nella discussione augurandosi che il tempo passasse così da non essere costretto a leggere niente le parate gli apparivano superficiali l'attrattiva del potere sempre valida ma priva di cuore rispetto ai discorsi dei suoi compagni per quanto sconclusionati e poi avrebbe voluto non aver scritto la parte riguardo alla coltivazione del prezzemolo adesso gli pareva solo una sciocchezza il meglio che riuscì a fare quando venne il suo turno fu leggere la storia del tacchino domizia gli disse che era toccante lì vi alzò gli occhi al cielo e la dottoressa gol inarcò le sopracciglia chiedendo se non avesse nient'altro da condividere no non l'aveva signor plint disse la donna seianus era rimasto in silenzio e sotto tono per l'intera lezione girò un foglio di carta e lesse l'unica cosa che mi piaceva della guerra era il fatto che vivevo ancora a casa mia nel caso intenda chiedermi se aveva un qualunque valore oltre a quello direi che era una buona occasione per rimediare a qualche ingiustizia e l'ha fatto domandò la dottoressa gol per niente nei distretti le cose vanno peggio di prima rispose seianus dalla classe vennero diverse obiezioni ma no non può averlo detto sul serio allora tornatene nel due chi sentirebbe la tua mancanza adesso sta proprio esagerando pensò coriolanus anche lui era arrabbiato con seianus bisognava essere in due per fare una guerra una guerra che tra l'altro era stata iniziata dai ribelli una guerra che l'aveva lasciato orfano ma seianus ignorò i compagni restando concentrato sul capo stratega posso chiedere cos'è piaciuto a lei della guerra dottoressa gol lei lo guardò per un lungo istante poi sorrise mi è piaciuto come ha dimostrato che avevo ragione il decano high bottom annunciò la pausa pranzo prima che qualcuno avesse il coraggio di chiedere spiegazioni quindi uscirono tutti in fila lasciando i loro temi dove erano avevano mezz'ora per mangiare ma coriolanus aveva dimenticato di portarsi del cibo e la scuola non ne forniva visto che era domenica quindi passò il tempo disteso all'ombra sulla scalinata d'ingresso facendo riposare la testa mentre Festus e Ilarius Evansby mentore della ragazza del distretto 8 parlavano di strategie per i tributi femmina aveva solo un vago ricordo del tributo di Ilarius alla stazione indossava un vestito a righe e una sciarpa rossa ma soprattutto era insieme a Bobbin il guaio con le femmine è che non sono abituate a combattere allo stesso modo dei maschi disse Ilarius gli Evansby erano ricchissimi come gli Snow prima della guerra ma nonostante i vantaggi che aveva Ilarius sembrava sempre abbattuto ah non lo so ribatté Festus credo che la mia Coral potrebbe dare del filo da torcere a uno qualunque di quei tizi la mia è una mezza cartuccia Ilarius staccò dei pezzetti dal suo panino alla carne con le unghie ben curate Wowvi si fa chiamare beh ho tentato di prepararla per l'intervista ma non ha neanche un briciolo di carattere nessuno l'ha sostenuta perciò non potrò darle da mangiare anche se dovesse riuscire a evitare gli altri se rimane in vita gli sponsor arriveranno ma mi stai ascoltando quella non sa combattere e io non ho soldi da usare la mia famiglia non può scommettere piagnucolò Ilarius spero solo che resista per un po' così potrò guardare in faccia i miei genitori il fatto che un Evansby stia facendo una figuraccia del genere li mette a disagio dopo pranzo Satiria portò i mentori alla stazione di Capitol TV perché prendessero confidenza con l'organizzazione che stava dietro gli Hunger Games gli strateghi lavoravano da un paio di ufficetti malmessi e per quanto la sala regia che l'emittente aveva concesso fosse di una dimensione adeguata sembrava comunque una sistemazione un po' ridotta per l'evento dell'anno Coriolanus trovava tutto l'insieme un tantino deludente aveva immaginato qualcosa di più sfarzoso ma gli strateghi erano entusiasti delle novità di quell'edizione dei giochi e non la smettevano di parlare dei mentori che avrebbero commentato le azioni dei loro tributi in diretta e della partecipazione degli sponsor la cabina era animatissima mentre veniva effettuato il controllo sulle telecamere comandate a distanza un tempo presenze fisse nei giorni sportivi dell'arena cinque o sei strateghi erano impegnati a testare i mini droni adibiti alla consegna dei doni degli sponsor i piccoli apparecchi rintracciavano i loro destinatari tramite riconoscimento facciale e potevano portare solo un articolo per volta Lucky Flickerman reduce dal successo delle interviste era stato scelto per condurre il programma con il supporto di un gruppo di giornalisti di Capitol News Curiolanus ebbe un brivido di eccitazione quando si vide inserito in onda alle 8 e 15 del mattino seguente almeno fino a che Lucky disse volevamo essere sicuri di mandarti in onda presto sai prima che la tua ragazza ci lasci la pelle si sentì come se qualcuno gli avesse dato un pugno nello stomaco Livia era piena di livore e la dottoressa Goll era pazza perciò era sempre stato in grado di ignorare la loro convinzione che Lucy Gray non fosse una rivale per nessuno ma per qualche motivo le sciocche parole di Lucky Flickerman colpirono nel segno come le altre non erano riuscite a fare mentre tornava a casa per prepararsi all'ultimo incontro con Lucy Gray rimuginò sulla possibilità che l'indomani a quella stessa ora lei potesse essere già morta la gelosia della sera precedente per quel fallito del suo fidanzato e per il modo in cui la stoffa da star di Lucy Gray a volte eclissava la sua svanì si sentiva estremamente vicino a lei a quella ragazza che era piovuta nella sua vita all'improvviso e con tale stile e non solo per i riconoscimenti che gli aveva procurato era sinceramente affezionato a lei molto più di quanto non fosse affezionato alla maggior parte delle ragazze che conosceva a Capitol City se fosse sopravvissuta o d'accordo era un grande se come avrebbero potuto fare a meno di avere un legame per la vita eppure anche a voler essere ottimisti non poteva ignorare che la buona sorte non era affatto a favore di Lucy Gray e una pesante malinconia gli calò addosso una volta a casa si sdraiò sul letto con il terrore di doverle dire addio avrebbe voluto offrirle qualcosa di bello che davvero le dimostrasse gratitudine per quanto gli aveva donato che desse il senso del valore che aveva per lui avrebbe dovuto essere qualcosa di molto speciale di prezioso qualcosa di suo non come le rose che in realtà erano della signora nonna qualcosa che lei se le cose nell'arena si fossero messe male avrebbe potuto stringere tra le dita per ricordare che lui era al suo fianco e trovare consolazione nel fatto che non sarebbe morta sola c'era un foulard di seta di un sontuoso arancione scuro che forse avrebbe potuto servirle per i capelli una spilla d'oro vinta per eccellenza accademica con inciso il suo nome magari una sua ciocca di capelli legata con un nastrino cosa poteva essere più personale di quello d'un tratto ebbe uno scatto di rabbia a cosa servivano quegli oggetti se lui non poteva usarli per difendersi cosa stava facendo lui se non agghindarla per renderla un cadavere più grazioso sarebbe forse riuscita a strangolare qualcuno con il foulard o a ferirlo con la spilla nell'arena poi le armi non mancavano non era quello il problema stava ancora cercando di trovare un dono quando Tigris lo chiamò a tavola aveva comprato mezzo chilo di macinato di manzo e fritto quattro medaglioni di carne il suo era sensibilmente più piccolo cosa cui Coriolanus avrebbe obiettato se non avesse saputo che mangiucchiava sempre un po' di carne prima di cuocerla Tigris ne andava matta e se la signora nonna non glielo avesse vietato avrebbe fatto fuori tutta la sua porzione cruda uno dei medaglioni riservato a Lucy Gray era ben condito e incastonato in un grosso panino Tigris le aveva preparato anche delle patate fritte e una cremosa insalata di cavolo e Coriolanus scelse la frutta e i dolci migliori dal cesto recapitatogli in ospedale Tigris stese un tovagliolo di lino in una piccola scatola di cartone decorata di segni di uccelli dalle piume coloratissime e vi sistemò il banchetto decorando poi il tessuto bianco come la neve con un ultimo bocciolo di rosa della signora nonna Coriolanus aveva optato per un intenso rosa arancione sfumato di cremisi perché i covi amavano i colori e Lucy Gray più di chiunque altro dille che faccio il tifo per lei lo esortò Tigris dille che a tutti noi dispiace tanto che debba morire aggiunse la signora nonna dopo l'aria mite della sera ancora calda di sole il freddo di Evansby Hall ricordò a Coriolanus la tomba di famiglia degli Snow dove riposavano i suoi genitori svuotata degli studenti e del loro via vai tutto vi creava un eco dai passi ai sospiri conferendo un'atmosfera irreale a un incontro già tetro non c'erano luci accese perché gli ultimi raggi di sole che filtravano dalle finestre erano stati ritenuti sufficienti ma quella penombra era in netto contrasto con la luminosità dei convegni precedenti quando i mentori rimasti si radunarono sulla balconata e osservarono con attenzione i loro tributi più in basso calò il silenzio il fatto è che io mi sono affezionata a Jessup sussurrò Coriolanus si chiese che cosa avesse visto l'isistrata che era vicino a lui più di chiunque altro quando erano esplose le bombe aveva visto Lucy Gray che lo salvava alludeva a questo mentre zigzagavano tra i tavolini fino ai loro posti Coriolanus si sforzò di pensare in modo positivo non serviva niente trascorrere i loro ultimi dieci minuti insieme piangendo quando invece potevano dedicarli a discutere una strategia vincente lo aiutò un po' che Lucy Gray avesse un aspetto migliore rispetto agli incontri precedenti in quella stessa sala pulita e ben pettinata il vestito ancora fresco nella semioscurità si sarebbe detto che fosse pronta per una festa non per un massacro i suoi occhi si illuminarono quando si posarono sulla scatola Coriolanus gliela offrì con un piccolo inchino vengo recando doni Lucy Gray sollevò con delicatezza la rosa e ne aspirò la fragranza staccò un petalo e se lo fece scivolare tra le labbra sa di favola della buonanotte disse con un sorriso triste che bella scatola Tigris la teneva da parte per qualcosa di speciale spiegò mangia pure se hai fame è ancora caldo penso proprio di sì farò un ultimo pasto da persona civile aprì il tovagliolo e ne ammirò il contenuto sembra tutto ottimo c'è parecchia roba così puoi dividerla con Gessa le disse Coriolanus anche se credo che l'isistrata gli abbia portato qualcosa lo farei ma ha smesso di mangiare Lucy Gray lanciò uno sguardo preoccupato a Gessa può darsi che sia solo nervosismo però si comporta anche in modo un po' strano certo ormai ci escono di bocca assurdità di ogni genere tipo chiese Coriolanus tipo che ieri sera Mortifer si è scusato personalmente con ciascuno di noi per il fatto di doverci uccidere rispose dice che si farà perdonare quando vincerà ha intenzione di ottenere vendetta su Capitol City anche se questa parte non era chiara come quella sull'ucciderci lo sguardo di Coriolanus corse a Mortifer che non solo era forte ma quanto pareva anche bravo nei giochetti psicologici e la reazione qual è stata la maggior parte di noi si è limitata a fissarlo Jessup gli ha sputato in un occhio io gli ho detto di non vendere le penne della ghiandaia imitatrice prima di averla uccisa ma le mie parole lo hanno confuso e basta è il suo modo di dare un senso a questa situazione immagino siamo tutti sottosopra non è facile dire addio alla propria vita il suo labbro inferiore cominciò a tremare e Lucy Gray spinse il panino da una parte senza dargli neanche un morso capendo che la conversazione stava prendendo una piega troppo fatalista Coriolanus cercò di darle un'altra direzione per fortuna tu non devi farlo per fortuna hai il triplo dei doni degli altri le sopracciglia della ragazza scattarono verso l'alto il triplo il triplo tu la vincerai questa gara Lucy Gray disse ci ho riflettuto a fondo nel momento in cui suonano quel gong tu scappi scappi più veloce che puoi ti infili in mezzo alle tribune e metti più distanza possibile tra te e gli altri trovi un buon nascondiglio io ti procurerò da mangiare poi ti sposti in un punto diverso tu continua solo a muoverti e resta viva finché tutti gli altri non si sono uccisi o sono morti di fame puoi farcela dici so di averti spinto io a credere in me però ieri sera mi sono resa conto che sarò davvero in quell'arena in trappola con tutte quelle armi con mortifer che mi dà la caccia di giorno mi sento più ottimista ma quando fa buio ho tanta paura che d'un tratto le lacrime cominciarono a scenderle lungo il viso era la prima volta che non riusciva a trattenerle sul palco dopo essere stata schiaffeggiata dal sindaco o quando Coriolanus le aveva dato la torta di pane era stata sul punto di piangere ma era riuscita a controllarsi ora invece le lacrime scorrevano a fiumi come se si fosse rotta una diga Coriolanus si sentì sciogliere qualcosa dentro nel momento in cui comprese l'impotenza di entrambi allungò la mano verso di lei oh Lucy Gray non voglio morire sussurrò ma certo che no le disse togliendole le lacrime dalle guance con le dita e io non lo permetterò lei continuò a singhiozzare non lo permetterò Lucy Gray dovresti invece sono stata solo un problema per te disse con voce strozzata ti ho messo in pericolo e ho mangiato il tuo cibo e ho capito che la mia ballata ti ha disgustato domani sarai libero finalmente sarò distrutto domani quando ti ho detto che per me era importante non intendevo come mio tributo io mi riferivo a te a te Lucy Gray Bird a te come persona come mia amica come mia qual era la parola giusta innamorata fidanzata non poteva pretendere che la sua fosse più di una cotta e magari era anche a senso unico ma cosa aveva poi da perdere confessandole che gli piaceva ero geloso dopo la tua canzone perché avrei voluto che pensassi a me non a qualcuno del tuo passato è sciocco lo so ma tu sei la ragazza più incredibile che abbia mai conosciuto sul serio straordinaria sotto ogni aspetto e io sentì le lacrime riempire anche i suoi occhi ma le scacciò battendo le palpebre doveva rimanere forte per tutti e due e io non voglio perderti mi rifiuto di perderti ti prego non piangere scusa scusa smetto subito è solo che mi sento così sola tu non sei sola le prese la mano e non sarai sola nell'arena saremo insieme io sarò lì in ogni istante non ti toglierò gli occhi di dosso vinceremo questa cosa insieme Lucy Gray te lo prometto la ragazza si aggrappò a lui sembra quasi possibile da come lo dici è più che possibile ribadì è probabile è certo se solo segui il piano ci credi davvero chiese guardandolo in faccia perché se sapessi che è così mi aiuterebbe moltissimo a crederci anch'io il momento esigeva un gesto importante e per fortuna lui ne aveva uno in serbo era stato indeciso a lungo valutando il rischio ma non poteva abbandonarla così senza niente a cui aggrapparsi si trattava di una questione d'onore era la sua ragazza gli aveva salvato la vita e lui doveva fare tutto ciò che poteva per salvare la sua ascolta mi ascolti lei stava ancora piangendo ma i singhiozzi si erano ridotti a piccoli sospiri irregolari mia madre mi ha lasciato una cosa quando è morta è la cosa più preziosa che ho voglio che tu la tenga con te nell'arena come porta fortuna però è solo un prestito mi aspetto che tu me la restituisca non potrei mai separarmene altrimenti Coriolanus infilò la mano in tasca poi la tese verso di lei e aprì le dita a ventaglio sul palmo scintillante sotto gli ultimi raggi di sole c'era il porta cipria d'argento di sua madre Lucy Gray rimase a bocca aperta nel vederlo e non era una che si stupiva facilmente allungò la mano e accarezzò la squisita incisione della rosa l'argento antico poi si ritrasse sia pure a malincuore oh non posso è troppo bello mi basta che tu me l'abbia offerto Coriolanus sicura chiese lui prendendola un po' in giro fece scattare la chiusura con delicatezza e sollevò il porta cipria perché vedesse il suo riflesso nello specchio Lucy Gray prese un brusco respiro e rise beh adesso ti approfitti della mia debolezza ed era vero era sempre molto attenta al suo aspetto non che fosse vanitose in realtà solo consapevole notò l'incavo vuoto che fino a un'ora prima aveva contenuto il cosmetico originale c'era della cipria qui una volta c'era ma iniziò Coriolanus poi si interruppe se l'avesse detto non avrebbe più avuto modo di tornare indietro d'altra parte se non l'avesse fatto avrebbe rischiato di perderla per sempre abbassò la voce fino a un sussurro ho pensato che preferissi usare la tua a unoo